Come si immaginava la finale del Mondiale tra Germania e Argentina è stata molto incerta fino alla fine, infatti la Germania ha segnato il gol partita dell'1-0 con Goetz proprio il 113esimo minuto, quindi nel secondo tempo supplementare. E così con questo gol storico, per la prima volta una squadra europea vince il Mondiale in Sud America, infatti fino a questo punto avevano sempre vinto squadre sudamericane. Sicuramente la Germania è stata la squadra che ha espresso il miglior calcio in questo Mondiale, inoltre c'è da segnalare un Messi veramente in condizioni penose, visto che ha giocato una partita indecente per lunghi tratti completamente fuori dal gioco. E devo ammettere che anche gli altri attaccanti, Guain e Aghiero, sono stati piuttosto deludenti, lo stesso Palazzo si è mangiato un gol, non difficilissimo, con un pallonetto completamente sballato. Quindi sono mancati proprio gli uomini di maggior talento, il migliore penso del reparto offensivo è stato Lavezzi che nel primo tempo si è sacrificato molto ed è stato sostituito da Aghiero che invece ha fatto cagare. Complimenti anche a Maradona per la sua gufata, visto che aveva previsto due gol di Messi e credo molti brasiliani lo derideranno per quella foto in cui faceva sette per sfottere il Brasile, visto che anche lui se l'è preso nel culo. Comunque onore alla Germania per questa vittoria, la quarta in un mondiale di calcio e speriamo nel prossimo di avere anche noi italiani un ruolo da protagonisti, magari senza Balotelli. E per fortuna Prendelli si è già levato dal cazzo. Un saluto branco di idioti.